La caccia all'untore non serve perché il virus non si trasmette calpestando la stessa superficie che ha calpestato una persona contagiata. Il virus non si trasmette perché c'è un conoscente del contagiato con cui magari avete parlato. Il virus si trasmette se c'è un contatto diretto, se c'è trasmissione di saliva, se ci si strannotisce in faccia e uno dei due è contagiato. Non possiamo sapere in questo momento realmente quanti contagiati ci sono perché non ci possiamo basare solo sui dati ufficiali che al momento parlano di soli due contagiati nel territorio di Bitonto. Ma questo non significa nulla perché come sapete ci sono anche le persone asintomatiche che pur essendo contagiate non hanno la possibilità, potrei anche esserlo io, potreste essere voi che mi state guardando, che possono poi però trasmettere il contagio stesso. Quindi l'unico modo, l'unico per salvare la salute dei nostri cari, della nostra famiglia e quindi della nostra comunità è quello di restare a casa. Tutte quelle attività che sono consentite per legge, io a loro faccio un appello, è vero che ve lo consente la legge, ma nel momento in cui siete consapevoli che non è possibile far rispettare i limiti o come potete mettere la mano sul fuoco, che i vostri clienti non si stiano contagiando l'uno con l'altro per una distanza ravvicinata, allora un appello, anche se la legge ve lo consente, chiudete l'attività. Soffriremo, soffriremo moltissimo perché il contagio si sta diffondendo a vista d'occhio, non solo a Bitonto, in tutta la Puglia, in tutti i comuni, patiremo le sofferenze dell'inferno dopo, dovremo ricostruire completamente una comunità sociale ed economica perché dobbiamo riscrivere tutte le regole, ma per farlo abbiamo bisogno di tutti i bitontini. Io non voglio seppellire altri morti e se li devo seppellire devo essere in grado, devo essere certo, sicuro di aver fatto tutto il possibile per averlo evitato. Grazie a tutti.